Prima udienza al Tribunale di Teramo per il processo per la morte della pittrice Renata Rapposelli, trovata senza vita sulle rive del Chienti, a Tolentino e nelle Marche, il 12 novembre del 2017, dopo essere sparita nel nulla un mese prima. Imputati il figlio Simone, che è rimasto nel carcere di Lanciano non partecipando a questa primudienza, e l'ex marito della donna Giuseppe Santoleri per il PM Enrica Medori, entrambi responsabili di omicidio e occultamento di cadavere, e che in questi mesi di indagine si sono accusati a vicenda del delitto. Prima della decisione di rinviare il processo al 21 febbraio per ascoltare i primi otto testi sui 59 dell'accusa, la Corte d'Assise, presieduta dal giudice Flavio Conciatori con all'atere Lorenzo Prudenzano, è entrata in Camere di Consiglio due volte. La prima per decidere sulla missione a parte civile, poi accettata, dell'Associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse, e dell'altra figlia di Renata Rapposelli Maria Chiara Santoleri. La seconda per vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese, che chiedevano il trasferimento degli atti alla procura di Ancona o a quella di Macerata, in virtù del ritrovamento del corpo a Tolentino e del viaggio in cui Giuseppe Santoleri avrebbe accompagnato Renata Rapposelli al santuario di Loreto, raccontato proprio dall'uomo agli investigatori. Richiesta di incompetenza territoriale, rigettata dalla Corte. I giudici infine hanno ammesso i mezzi di prova e disposto anche due perizie psichiatriche sugli imputati. Un processo, quello ai Santoleri, che è stato e sarà anche mediatico e che vedrà in campo star della criminologia e della psichiatria nazionale. Il Collegio di Difesa, Gianluca Carradori e Gianluca Reitano per Simone e Alessandro Angelozzi per Giuseppe Santoleri, oltre a 26 testi, hanno coinvolto nel parterre difensivo anche Ezio Denti, che si è occupato del diritto di area Gambirasio, Luigi Nicotera, informatico forense, Iuri Canfora, psichiatra e Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo, oltre all'anatomo patologo Pino Sciarra.